Alimentazione, movimento fisico, sessualità, alcol, fumo, sostanze psicotrope e altre dipendenze costituiscono alcuni dei temi proposti dal progetto Quaderno di Educazione alla Salute, giunto alla quarta edizione promosso congiuntamente dagli assessorati regionali dell'Istruzione e Cultura e della Sanità, Salute e Politiche e Sociali e dall'azienda USL della Valle d'Aosta. È realizzato dal gruppo interistituzionale per la definizione delle linee guida e il coordinamento delle attività di educazione alla salute in ambito scolastico. Il mondo della scuola e quello della salute hanno interessi comuni e la combinazione di questi interessi consente alle istituzioni scolastiche di diventare luoghi con molteplici risposte da mettere a disposizione. La scuola di fatto può contribuire a promuovere stili di vita salutari agendo all'interno del curriculum formativo. Il programma di educazione alla salute regionale si declina così su diversi progetti che coinvolgono le scuole valdostane di ogni ordine e grado in continuità con il passato, contiene anche attività proposte dai diversi partner del territorio nell'ottica dell'intersettorialità degli interventi. L'obiettivo, come è stato detto prima, è quello della prevenzione. Questo partenariato tra diversi uffici che coinvolgono l'assessorato alla cultura, pubblica istruzione, l'assessorato alla sanità, il GSI e comunque tutta l'USL sicuramente va nella direzione di prevenire, che come è stato detto prima, prevenire è meglio che curare. Quindi cercheremo di dare alla scuola un aspetto ulteriormente educativo per la salute dei nostri studenti. Il progetto quaderno della salute prevede nel suo ITER la formazione degli insegnanti, attori attivi delle tematiche che poi presenteranno in classe supportati da esperti. I docenti avranno al contempo gli strumenti per cogliere i segnali di disagio e proporre agli studenti soluzioni adeguate, valorizzando il ruolo della famiglia, che trova così nella scuola un alleato competente. Importanti sono anche le ricadute sulla rete sanitaria. Di fatto la prevenzione è meglio della cura e la collaborazione tra istituzioni e denti del territorio permette l'ottimizzazione degli interventi, la condivisione di progetti comuni, un'efficace sinergia ma soprattutto una riduzione delle spese sanitarie future. Sì, siamo tutti convinti che la prevenzione sia quell'arma in più di cui abbiamo bisogno. Purtroppo si spende tanto in prevenzione ma delle volte ognuno si fa le sue iniziative, per cui queste sono poco incisive. Questa edizione, che è la quarta dei quaderni della salute, parte proprio da questo, da una sinergia, da un desiderio comune tra la sanità e chi è il maggiorente di formazione e di comunicazione, cioè la scuola. Questi progetti vengono presentati attraverso gli insegnanti proprio all'interno delle aule sconastiche, perché i giovani incominciano a capire che cosa sia il tabagismo, la lotta alle dipendenze, ma soprattutto i corretti stili di vita. E tra questo vogliai sottolineare l'importanza che ha per noi la lotta contro l'obesità infantile e i cattivi disturbi alimentari.